Il pane comune anche ad Arezzo è ormai arrivato a sfiorare i 4 euro al chilogrammo, il caro bollette ma anche il costo delle materie prime sta mettendo a dura prova un settore che adesso chiede aiuto al governo centrale. Per adesso sinceramente la cosa che più ha fatto male probabilmente a chi come noi lavora nel campo e quindi soffre direttamente in prima persona l'assenza completa di una parola da parte di governi, sindacati perché non è stato aperto un tavolo di crisi, Cisle Will io non ho mai sentito nessuno prendere una posizione netta politica contro questo modo di agire. Anche io ho sentito di paniche a 4 euro solo che oggi le famiglie purtroppo gli stipendi sono questi se noi aumentiamo comunque il pane che per le persone ci vuole perché è un bene di prima necessità si cerca in qualche modo di contenere quindi il costo ma non ci si fa perché con questo caro bollette ci ammazzano cioè si va veramente in una condizione di non si sta guadagnando ma si sta rimettendo quindi questo è quanto altrimenti uno decide di chiudere la serranda e provare a chiedere la cassa integrazione per tutti i nostri dipendenti che così aggraverà ancora nello Stato. E quindi funziona così? Per noi no, noi lottiamo fino in fondo sperando che qualcuno senta questo e ci dia una grande mano.